Musica Bentornato Guglier, bentornata Andiamo ora ad iniziare la descrizione del backup Quanto è fondamentale questa operazione? La lezione scorsa ti ho evidenziato il motivo per cui dovrebbe essere necessario agire per l'ottimizzazione in piena sicurezza Bene, questo è proprio un tipico esempio di sicurezza ossia che ti permette di lavorare e sperimentare in assoluta sicurezza Hai presente quando capisci che stai facendo qualcosa di buono? Quella sensazione che ti riempie l'animo e ti motiva a divulgarla perché sei consapevole del bene che ne può derivare Quell'indescrivibile leggerezza che diffonde benessere in tutto il corpo Questo è il backup Forse esagero? No, penso proprio di no Ascolta Quante volte ti sarà capitato di offenderti da solo, da sola Perché hai perso dei file importanti, determinanti o peggio ancora, vitali? Quante ore o quanti giorni hai dovuto perdere per formattare il tuo computer e ristallare il sistema operativo, i driver e i programmi? Quante volte hai dovuto ripetere questa operazione? Pigrizia o non conoscenza, in questo caso, può averla fatta da padrona e questo ha preso possesso di una parte della tua vita Pensa, sarebbero stati sufficienti pochi minuti per poter salvaguardare i tuoi preziosi dati facendo proprio un backup Ma cos'è un backup? È da intendersi qualsiasi operazione che dovrai eseguire per realizzare una o più copie di sicurezza del materiale informatico in maniera da conservarla ipoteticamente per un tempo indefinito Tale operazione è necessaria per ridurre al minimo la possibilità di perdere i tuoi dati importanti o vitali Lo scopo quindi è realizzare una ridondanza di dati quindi una copia degli stessi Se il backup lo devi eseguire su dati non personali quindi appartenenti ad altre persone allora attenzione perché dovrai curare anche l'aspetto legale legato ovviamente alla tutela della legge sulla privacy Quali saranno i file di cui fare il backup? Semplicemente ogni cosa che contiene bit quindi ogni tipo di file Nella realtà quotidiana potrai archiviare come copia di sicurezza o i documenti presentazioni, file in PDF, tabelle in Excel immagini, delle foto, file audio o video parametri dei vari account di posta elettronica se li hai la rubrica telefonica se li hai memorizzata nomi, utenti e password di accesso ai servizi opportunamente criptati i driver e molto altro ancora dove eseguire il backup? L'archiviazione degli stessi la potrai eseguire su qualsiasi supporto di memorizzazione come i dischi rigidi interni del tuo computer o del tuo dispositivo informatico i dischi rigidi esterni oppure supporti ottici come CD, DVD o Blu-ray o ancora pendrive, flash memory, dischi rigidi virtuali quindi gli spazi web come eseguire invece il backup? Puoi eseguire una copia di sicurezza in maniera semplice già il copia e incolla di un file da un supporto ad un altro è realizzare una copia di backup forse poco professionale ma il risultato comunque è raggiunto esistono invece dei programmi dedicati e soprattutto anche nelle ultime versioni dei sistemi operativi anche opzioni integrate ai sistemi operativi stessi ma naturalmente con possibilità di interagire nelle varie impostazioni o scelte di parametri in maniera un po' limitata l'esecuzione del backup potrà avvenire o in maniera automatica se la programmi configurando le impostazioni all'interno del programma stesso oppure manualmente in caso di necessità potrai eseguirla anche in locale o in remoto cosa significa? nel primo caso sarai tu stesso che prenderai i file dal tuo computer e li archiverai su altro dispositivo esterno o interno al computer l'altra possibilità quindi in remoto tu sarai in posizione alternativa al computer da dove devi prelevare i file e trasferirli altrove potrai interagire anche da due postazioni distanti molti chilometri la procedura di backup può avvenire o a caldo o a freddo normalmente si esegue a caldo ossia con sistema operativo avviato e ciò ti permetterà di eseguire l'archiviazione con i programmi installati naturalmente nel sistema operativo la memorizzazione a freddo invece prevede che tu avvii il computer da disco tramite un supporto ottico nel quale ci saranno dei programmi avviabili che creeranno l'ambiente di backup ed in seguito anche di ripristino dal quale potrai prelevare i file che dovrai memorizzare in varie posizioni a te la scelta il formato del file di backup quindi quello che realizzerai dipenderà ovviamente dal programma che impiegherai infatti potrà essere in formato compresso oppure un insieme di file e cartelle l'utilizzo degli stessi comunque è strettamente correlato al programma che avrai utilizzato per realizzare il backup stesso questo significa che per leggere, utilizzare e ripristinare i file dovrai necessariamente impiegare lo stesso programma che hai utilizzato per generare il backup nella prossima lezione ti darò altre informazioni sul backup in particolar modo sui vari tipi di backup ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto